Ok ragazzi, sono in hotel, sto scendendo le scale, qui sono le 3 e un quarto, da voi sono le 2 e un quarto e sto andando in palestra, c'è un po' di più Che figura di me, non sapevo come si apriva la luce, ho dovuto chiamare ragazzo, è come un certo Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione